Da qualche anno a questa parte, da circa tre anni a questa parte, è piuttosto frequente che dei detenuti vadano nelle scuole. Il Ministero della Giustizia si è messo d'accordo con il Ministero dell'Istruzione ed accade piuttosto spesso che dei detenuti vadano nelle scuole. Di solito agli studenti si dice che se fai quello che ho fatto io, drogandomi, spacciando cocaina, facendo rapine, finisce in carcere. Allo gruppo della trasgressione non si fa questo. Si propone agli studenti il lavoro che il detenuto ha fatto, proprio partendo dai sentimenti problematici che aveva all'epoca delle rapine e proprio partendo dal riconoscimento di questi sentimenti e dal lavoro che su questi sentimenti si può fare, portando poi detenuti e studenti a riconoscersi vicendevolmente e a progettare, per esempio, il lavoro di prevenzione del burrismo. C'è una fontana oscura dove cammina il mio destino. Qual è la direzione? Nessuno me lo imparò. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. un po' dei miei capelli, sopra ogni sughero il disegno di tutti i miei coltelli, l'amore delle case, l'amore bianco vestito, io non ho mai saputo e non l'ho mai traito, mio padre è un falco, mia madre è un pagliano, stanno sulla collina, i loro occhi senza fondo, seguono la mia luna, notte, notte, notte sola, sono come il mio fuoco, piega la testa sul mio cuore e spegno a poco a poco.